Grande festa domenica 26 aprile presso la villa Piannè di Matelica, dove il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, Massimo Montesi, ha scelto di presentare la sua lista. Nonostante la pioggia, infatti, in molti sono accorsi, spinti dalla volontà di sostenere o anche solo di conoscere i venti volti che faranno parte della coalizione Matelica Insieme, e un grande interesse e compiacimento da parte degli intervenuti ha suscitato la presenza delle dieci donne in lista. Nella lista c'è la prima caratteristica e il rinnovamento, quello che serve a Matelica. Ci sono le capacità, le donne e gli uomini che si vogliono mettere a disposizione in un progetto ampio e un grande tasso di rinnovamento per una nuova classe dirigente a Matelica, quello che serve oggi. Un pomeriggio aglietato dalla musica e da una genuina merenda a base di prodotti tipici, in cui Montesi ha presentato una squadra di collaboratori accomunati dalla forte esigenza di rinnovamento e dall'auspicio di poter creare una nuova classe dirigente. Io mi aspetto dagli elettori e dai matelicesi che seguano questo nostro progetto, perché è il progetto nuovo che serve a Matelica per chiudere una pagina lunga e fortemente inefficace per Matelica e per aprirne una nuova che dia un futuro e una speranza ai nostri giovani e alla nostra città. Ecco allora, a fianco di alcuni personaggi già noti nel mondo politico locale, come Fabrizio Massari, Angelo Lacche, Franco Antonini e Alessandro Bellardinelli, anche molti volti nuovi e due nomi, quelli di Fabiola Santini e Matteo Aringoli, rientrati nello schieramento di centrosinistra non condividendo la collocazione sempre più orientata verso il centrodestra della giunta Gagliardi. Presenti all'incontro anche l'onorevole Mario Cavallaro, il consigliere regionale Francesco Comi e la segretaria regionale del PD Sara Giannini. che hanno elogiato il candidato, mettendo in luce lo spirito di servizio e la passione che da sempre animano il suo impegno politico. Io voglio parlare con i matelicesi per far capire loro quello che noi vogliamo fare per Matelica. L'atteggiamento è quello di essere vicini, in questa situazione di crisi, alle nostre famiglie e alle nostre imprese. Partendo da questo atteggiamento poi derivano le misure che prenderemo. Nell'immediato, ad esempio, il fondo di solidarietà comunale che è stato istituito su nostra iniziativa sarà potenziato, così come cercheremo di estendere i benefici del fondo di aiuto alle aziende commerciali matelicese allargandone il raggio. Poi dovremo lavorare e costruire il futuro, quello che uscirà dopo la crisi.